100 notizie Brindisi, un cordiale saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa edizione della telegiornale, accelerazione sulle vaccinazioni, ci sono in apertura di questa edizione le comunicazioni del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi a margine di una videoconferenza che si è svolta questa mattina con Emiliano Lopalco, la ASL e i sindaci del territorio, perché da domani partono le somministrazioni dei vaccini per i 79 anni senza fragilità nei 10 hub della provincia. Per quanto riguarda Brindisi, punto di riferimento il Flacco, quartiere Minuta, il Palavince, quartiere Cappuccini, non serve la prenotazione. L'unico vaccino disponibile, bene sottolinearlo, è AstraZeneca perché 12 mila dosi sono avanzate in tutta la provincia e quindi bisogna somministrarle. Da martedì invece toccherà ai 78 anni e così via. Sentiamo il sindaco Rossi. Abbiamo molte dosi di AstraZeneca, si è quindi deciso domani di aprire senza alcuna prenotazione i nostri centri per i nati del 1942. Sono i 79 anni. Ecco, per adesso sono basse le prenotazioni ricevute, dobbiamo alzare e quindi si vuole far sì che tutti coloro, tutti costoro possano presentarsi domani senza alcuna prenotazione. Negli hub vaccinali, ripeto, nella città di Brindisi sono al Flacco, quartiere Minuta e al Palavinci e sono persone non fragili perché sappiamo che in questo caso nelle persone fragili verrebbe effettuato il Pfizer. Invece noi le dosi che abbiamo in più, abbiamo in questo momento circa 12 mila dosi in provincia di Brindisi di AstraZeneca e debbono essere effettuate. I numeri di prenotazione sono bassi, dobbiamo accelerare perché altrimenti questa campagna vaccinale non può durare mesi e mesi. Un'altra informazione importante, da domani verranno aperte le prenotazioni per tutti coloro che hanno tra i 60 e i 69 anni. In questo momento, ecco, negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto, 15-20 giorni abbiamo avuto una forte accelerazione dei contagi in città. Siamo passati dai circa 220 positivi a circa 500 in questo momento, quindi il numero è più che raddoppiato ed è anche molto aumentato il numero di ricoveri nell'ospedale, tant'è che il perrino ha anche aperto un nuovo reparto. Abbiamo notato che gran parte dei contagi avvengono in famiglia, nelle case. Quando riceviamo le note dei contagiati abbiamo interi gruppi familiari che risultano contagiati. Ecco, ribadiamo che le novità di questa mattina riguardano esclusivamente le persone non fragili. Per quanto riguarda invece le persone fragili, invece fra oggi e domani circa 8.000 dosi di vaccino somministrate nel territorio della provincia di Brindisi proprio ai pazienti fragili, ma anche agli over 80 e ai caregiver. Questo per completezza di informazioni relativamente anche alle persone che hanno particolari patologie o ad altre categorie che sono state contemplate appunto a livello nazionale e regionale. Ancora vacciniamo la popolazione, non perdiamo altro tempo. Questo è l'appello della consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, al quale in sostanza è stato risposto anche stamattina a seguito dell'incontro in videoconferenza fra il governatore della regione Puglia, Michele Emiliano, Lopalco, i sindaci e l'ASL, perché il consigliere aveva sollevato però anche un altro problema, cioè quello dell'ottimale organizzazione della rete dei medici di famiglia, sempre sul fronte delle vaccinazioni anti-covid. Sentiamolo. Vacciniamo la popolazione, mettiamo in pratica le migliori modalità di gestione dell'emergenza, non aspettiamo altro tempo. Così il consigliere regionale Luigi Caroli di Fratelli d'Italia che aggiunge, come si apprende dal report a cura dell'unità operativa di epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Brindisi, nel periodo compreso dal 27 dicembre 2020 all'8 aprile 2021 sono state somministrate 59.602 dosi di vaccino fra prime e seconde dosi con una media di 640,9 somministrazioni per aggiornata. Dai dati emerge una certa fatica e un ritmo non sufficiente a contrastare l'aumento esponenziale dei contagi e se continuiamo a vaccinare senza un efficiente cronoprogramma rischiamo di avere serie difficoltà nel portare a termine la vaccinazione dell'intero bacino brindisino in un tempo adeguato, aggiunge Caroli. Pertanto il mio invito è quello di mantenere la reportistica in questione che senza dubbio consente un monitoraggio nella gestione della campagna vaccinale, di utilizzarla con cadenza settimanale facendola diventare un prezioso strumento di rendicontazione. In questo modo si garantirebbe trasparenza nei confronti dei cittadini e l'azienda sanitaria avrebbe un quadro più chiaro della situazione. Altra problematica, prosegue Caroli, alla quale mi auguro che la ASL possa dare presto una soluzione riguarda la vaccinazione effettuata dai medici di base. A questi ultimi da pochi giorni è stato consentito di vaccinare un certo numero di pazienti, individuato secondo precise direttive, ma gli stessi si dicono preoccupati per le modalità di ritiro delle dosi destinate a ciascuno di loro. E cioè, spiega Caroli, ogni mattina i medici dovranno recarsi alla stessa ora nel punto di ritiro indicato dalla ASL per prelevare dalle 5 alle 7 dosi per poi tornare nel proprio comune e somministrare il vaccino. La mancata organizzazione comporterebbe altri ritardi. Sarebbe senza dubbio auspicabile, conclude Caroli, l'utilizzo di logistiche più appropriate se davvero si volesse premere l'acceleratore sulle vaccinazioni. Dora Fasano per una notizia di cronaca. Aveva problemi economici. Ha tentato il suicidio gettandosi nel mare agitato, salvato dai carabinieri. Il tempestivo intervento dei militari ha infatti consentito il salvataggio di un uomo con intenzioni suicide che si era lanciato nel mare grosso. In particolare si tratta di una quarantenne del posto che aveva problemi economici. Con questo insano gesto si è gettato in mare, non è riuscito nell'estremo intento grazie all'intervento dei militari che posizionatisi sulla scogliera sono riusciti ad afferrare l'uomo, oramai in balia del mare agitato, che è stato estratto dall'acqua, è stato trasportato di peso sulla bagnasciuga anche grazie all'aiuto di alcuni presenti. È stato messo in sicurezza. L'uomo che aveva subito delle ferite lacero contuse a causa dello sfregamento contro gli scogli è stato soccorso dalla personale della 118 che lo ha trasferito nell'ospedale Pedrino di Brindisi dove si trova recoverato non più in pericolo di vita. E prima di concludere un aggiornamento sulla nostra programmazione, diretta in esclusiva torna infatti il consueto appuntamento domenicale con la Lega Nazionale di Lettanti in diretta su Studio 100 alle ore 15. Seguiremo in esclusiva il match della 25esima giornata del Girone H, Fabrinisi e Football Club contro il team Altamura come sempre sulla canale 15 e 187 della TV, anche su Facebook e anche sul sito www.studio100.it. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. La linea ritorna a Taranto. La linea ritorna a Taranto.